Circa 2000 migranti sono entrati in Austria scappando da un centro di accoglienza sloveno martedì sera. Alcuni hanno scavalcato le barriere saltando la fila per raggiungere gli autobus che da Spielfeld partono verso i centri d'accoglienza austriaci. La polizia slovena ha fatto ricorso allo spray al peperoncino per disperdere la folla. Da Spielfeld, dove la Croce Rossa gestisce tendoni riscaldati per 1500 persone, i migranti vengono poi trasferiti a Klagenfurt. L'Austria si prepara a un afflusso maggiore, spiega un portavoce della polizia. Ci aspettiamo più persone in arrivo in Austria. Abbiamo messo a disposizione delle sistemazioni. Ora stiamo allestendo un nuovo tendone. Credo che siamo preparati a gestire un nuovo afflusso. In totale, martedì, 6.000 persone sono giunte in Austria. Il governo ha negato di voler bloccare o rallentare l'ingresso dei profughi. Ma i numeri sono inferiori a quelli delle ultime settimane, quando arrivavano fino a 10.000 persone al giorno. La gestione dei rifugiati costerà un miliardo di euro al bilancio di Vienna, che sta esaminando circa 60.000 richieste di asilo.